L'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza ha assegnato le concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque per le sorgenti ubicate nel comune di Popoli Terme, per le acque minerali e per quelle che si trovano nel comune di Caramanico Terme per le acque termali. Una notizia attesa da tempo che trova il plauso della Cisle. Franco Pescara, una concessione attesa da anni. Sì, dal 2017 finalmente ieri ci è arrivata la bella notizia per i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento di Popoli affinché con questa assegnazione trentennale l'azienda possa fare degli investimenti e dia garanzie ai lavoratori. In questa azienda noi in questi giorni stiamo rinnovando il contratto aziendale. L'azienda a fine anno ha riconosciuto ai lavoratori 600 euro per il lavoro svolto da tutto il gruppo, mentre lo stabilimento di Popoli il primo di febbraio prenderà 1.750 euro dall'accordo integrativo scaduto. Ci auguriamo che anche quello stabilimento termale riparta per dare occupazione e prospettive al territorio di quella zona lì. Per le acque minerali è risultata giudicataria la Gran Guizza S.p.a. Per il lotto delle acque termali la società giudicataria è la DRE S.r.l. Ora per completare l'opera manca il passaggio dell'asta fissata per metà febbraio. Per quanto riguarda Popoli è definitiva, quindi non deve più fare niente e fortunatamente è così. Invece per le terme si attende che questa giudicata adesso in maniera provvisoria abbia tutte le carte regole per ripartire, cosa che tutti quanti ci auguriamo perché abbiamo la realtà delle terme di Popoli che va benissimo. Diciamo che il territorio della provincia di Pescara, se ci mettiamo pure il settore della moda, si sta rilanciando. Queste sono buone notizie affinché le persone siano belle, tranquille e lavorano. Grazie a tutti.